Non respiri correttamente, ecco perché hai il fiatone. Così è il tuo compleanno, eh? Quanti anni compi? Compio 32 anni, signor Dan. E festeggio il fatto che ho passato l'ennesimo anno a lavare i piatti e a fare la cameriera, cosa che faccio dall'età di 13 anni. E secondo lei dovrò compierne 37 prima di diventare un pugile decente. E dato che ho un mese che ti ripieni a questo sacco veloce senza risultati, comincio a rendermi conto della verità. L'altra verità è che mio fratello sta in galera. Mia sorella truffa la previdenza sociale fingendo che suo figlio sia ancora vivo. Mio padre è morto e mia madre pesa oltre 140 kg. E se dovessi ragionare a mente fretta, dovrei tornare a casa, trovare una roulotte usata, comprarmi una frigitrice e dei biscotti. Il problema è che mi sento bene soltanto quando mi alleno. Se sono troppo vecchia, allora non mi resta niente. Lei basta come spiegazione? È il tuo nuovo sacco veloce? Il suo è dietro al bancone, vorrei poter dire di averlo consumato. Aspetta un secondo, solo un secondo. Ti farò vedere un paio di trucchetti e poi ti cercheremo un allenatore. No, lasci stare. Vuoi anche dettare tu le condizioni? Sì, signore. Perché so che se sarà lei ad allenarmi diventerò una campionessa. L'ho visto come mi guarda. Sì, con pietà. Non mi dica così. Non deve dirmi così se non è la verità. Io voglio un allenatore. Non voglio l'elemosina e non voglio che mi faccia favori. E se non è interessato vorrei continuare a festeggiare. ferma, 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 ferma. Cazzo. Ti vuoi fermare? Che diavolo stai facendo? Ok. Se decidessi di allenarti... Le giuro che non se ne pentirà. Aspetta un secondo, ascoltami. Se decido di allenarti... Le prometto che lavorerò a sodo. Ecco, stai già sbagliando. Lo vedi? Ok, l'ascolto, capo. Se decido di allenarti, non devi dire niente. Non devi fare nessuna domanda. Non devi chiedere perché. Niente di niente. Al massimo, sì, Frankie. E io cercherò di dimenticare il fatto che sei una ragazza. Non chiedo altro. E non devi venire a piangere da me se ti fai male. Siamo intesi. Affare fatto. No, c'è ancora una cosa. Io ti insegnerò a combattere. Poi ti troveremo un manager e io me ne andrò per la mia strada. Non voglio discutere, ma... Non discutere, accetterò solo a queste condizioni. Ti insegnerò quello che c'è da sapere e poi te ne andrò in giro a guadagnarti milioni di dollari. Non mi interessa. Fatti saltare tutti i denti. Non mi interessa. Io non voglio sapere nulla. E comunque sia, sarà così e basta. Accetto solo in questo caso. D'accordo. Allora, una delle cose che ho notato vedendoti allenare è che tu non muovi mai i piedi. Sembra uno stoccafisso, sei immobile. E invece devi muoverli quei piedi. E questa è una delle cose più importanti che posso insegnarti. Allora, guarda come devi fare. Devi... devi metterti... Piega un po' con le ginocchia. Assumi una posizione atletica. Come se dovessi colpire qualcosa. Come devo muoverli, capo? Devi colpire. Forza, colpisci. Ferma. Dove ho sbagliato? D'accordo. Due cose sono sbagliate. La prima è avermi fatto una domanda. La seconda è avermi fatto un'altra domanda. Allora, quello che vorrei che capissi è che non importa la potenza del colpo. Quanto colpire nel modo giusto. Quindi, guardami. E puoi contare con me se vuoi. Allora, quando dico uno, colpisco dritto dritto il sacco veloce. Può farmelo rivedere. Di solo... Di solo uno, per favore. Uno. Ok. Uno. Uno. Ok. Esatto. Di solo uno. Perfetto. Perfetto. Adesso mi sposto sul piede destro. Lo vedi? Sposto il peso del corpo sul piede destro. E poi colpisco con le nocche della mano come se stessi spaccando del ghiaccio con un punteruolo. Adesso perdi. E mi sposto sul piede sinistro. E colpisco con la mano destra. E un'altra volta il colpo del punteruolo. Poi mi sposto sul piede destro e colpisco ancora. Destra, sinistra. Destra, sinistra. Guarda solo come muove i piedi.